Cari telespettatori, bentornati nei nostri studi. Oggi dedicheremo uno speciale approfondimento all'ex sindaco di Pergola, nonché vicepresidente dell'Associazione del Lanci, l'associazione che riunisce circa 8.000 sindaci in tutta Italia. Sto parlando di Francesco Baldelli, 45 anni candidato al Consiglio della Regione Marche per Fratelli d'Italia. Benvenuto Francesco. Grazie Simona e un saluto a tutti gli amici di Fanno TV. Oggi vorrei iniziare questa chiacchierata con lei partendo dal suo percorso, diciamo dalla laurea, dalla laurea con l'odio addirittura in giurisprudenza, è così? Sì, una laurea che viene dal nostro territorio perché mi sono laureato all'Università degli Studi di Urbino, poi ho continuato ad approfondire questi studi giuridici che hanno sempre a che fare un po' con la tutela dei diritti, dei diritti dei nostri cittadini, quindi alcuni approfondimenti sulla tutela dei diritti dell'uomo alla Corte Europea di Strasburgo, così come un'altra serie di approfondimenti come quelli sul diritto sanitario. Era stato selezionato anche tra i 20 migliori studenti? Sì, un approfondimento di studi presso gli uffici della Camera dei Diputati, fra i migliori studenti provenienti dalle università italiane. E continua a studiare anche oggi? Non si ferma mai? Beh, bisogna sempre stare al passo con i tempi, quindi bisogna studiare, bisogna avere competenze, soprattutto se si vogliono rappresentare i cittadini, in quella che ci sta a cuore, la tutela della nostra terra e la tutela di diritti che troppo spesso vengono calpestati, che sono i diritti per i quali i cittadini richiedono un riconoscimento alla politica e la politica molto spesso li fa cadere dall'alto, come se non fossero diritti ma se fossero favori che si fanno alle nostre comunità. Non sono favori, i cittadini hanno il diritto di vedere riconosciute le loro possibilità di vivere in questo territorio, di poter puntare su uno sviluppo di questo territorio, di poter vedere garantiti il loro diritto alla salute e il loro diritto alla vita. Ed è passato anche ad approfondire il tema sanitario che tra l'altro è sempre stato il suo punto forte, quindi il cavallo di battaglia. Ma sicuramente le regioni si qualificano soprattutto per la spesa sanitaria, oltre l'80%, si dice circa l'86% del bilancio delle regioni viene destinato alla sanità e allora è evidente che dobbiamo approfondire questo tema per avere le competenze per poter garantire ospedali sul nostro territorio, accesso alle cure, non solo ospedaliere ma anche territoriali. Ciò che proprio in questi periodi, in questi cinque anni, direi negli ultimi dieci anni sono stati negati ai cittadini della provincia di Pesaro Urbino. Come anche i nostri telespettatori possono vedere, diritti al cambiamento è lo slogan che lei ha scelto per la sua campagna elettorale. Sì, diritti, quelli che abbiamo elencato fino a questo momento, i diritti dei cittadini che vanno tutelati, per essere tutelati c'è necessità di cambiamento, ma anche la modalità con cui tutelare questi diritti. A schiena diritta, l'unico metodo che conosco, senza sotterfugi, con onestà, trasparenza e chiarezza di fronte ai cittadini per andare diritti verso cosa, l'unico obiettivo che conosciamo appunto è la tutela del nostro territorio. A partire dalla tutela alla salute, quindi riscrivere questo piano sanitario? Tutela alla salute, riscrittura complessiva e totale del piano sanitario che va annullato. Un piano sanitario che prevede un ospedale unico provinciale, che oggi chiamano nuovo, ma in realtà nella sostanza è un ospedale unico provinciale, che chiude tutti gli altri ospedali. Ad iniziare dai 13 già chiusi nella nostra regione, di cui 3 nella nostra provincia, Cagli, Fossombrone e Sasso Corvaro e altri ospedali dipotenziati. L'esempio è quello di Fano, ma possiamo passare anche attraverso quello di Pergola e di Urbino, che verranno cancellati e dipotenziati progressivamente fino alla realizzazione di questa struttura unica che priverà del diritto alla salute e al posto ospedaliero anche i cittadini della costa, in modo particolare quelli di Pesaro, quelli di Fano e quelli di Marotta-Mondolfo, perché si crea un imbuto, i pazienti vengono diretti verso un'unica struttura e già l'emergenza Covid ci ha dimostrato che uniche strutture non sono idonee per garantire il diritto alla salute e all'assistenza ospedaliera dei cittadini di questa provincia. Tra l'altro vorrebbero costruire un ospedale unico, la delibera conclusiva dell'iter procedurale del 27 luglio, anche un comportamento molto scorretto non solo di Ceriscioli ma di tutto il centro-sinistra che lo sostiene e l'ha sostenuto per questi cinque anni, una delibera con cui si dà sostanzialmente il via alla costruzione di un ospedale unico a Pesaro che toglierà il diritto alla salute e anche ai cittadini del capoluogo che dovrebbe costare 250 milioni di euro circa, invece verrà a costare un miliardo di euro, ossia circa 2 mila miliardi delle vecchie lire che vengono regalati con una sorta di project financing con dei canoni alla compagine privata che parteciperà con il pubblico alla costruzione di questo ospedale unico e vincoleremo i bilanci delle regioni Marche per i prossimi 30 anni. Questo è scandaloso, questo va bloccato, va detto no all'ospedale unico, sia al potenziamento degli ospedali esistenti, sia alla riapertura degli ospedali chiusi che facciano da filtro verso le strutture maggiori della costa e sicuramente se c'è la necessità di costruire un nuovo ospedale per dare risposta alle esigenze di cittadini di Pesaro, questo ospedale può essere costruito come già è accaduto in passato, penso all'ospedale di Pergola negli anni 80-90, ma deve essere costruito con un altro concetto, non di ospedale unico ma di ospedale per la città di Pesaro con delle specializzazioni portare e riportare i professionisti all'interno dell'ospedale di Pesaro perché possano accogliere tutti quei pazienti che non possono essere gestiti invece negli ospedali filtro dell'entroterra. Abbiamo visto proprio nei giorni scorsi la presenza di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, proprio di fronte all'ospedale di Fossombrone e di fronte alla Guinza, una delle opere incompiute, insomma molto importanti in realtà per il nostro territorio eppure chiuse. Sì, per parlare di sviluppo non possiamo che parlare di riconoscimento di diritti fondamentali, di quello alla salute e alla presenza degli ospedali sul territorio abbiamo parlato, per cui Giorgia Meloni non ha fatto altro che confermare la linea delle battaglie che abbiamo portato avanti e a volte ho portato avanti anche in solitudine, nelle conferenze dei sindaci negli ultimi dieci anni. Quindi no ospedali unici, sì ad ospedali sul territorio, sì al potenziamento di Pesaro, di Fano, di Urbino, di Pergola e riapertura degli ospedali minori. Al tempo spesso però non si può avere sviluppo se non si hanno infrastrutture degne del terzo millennio in cui siamo entrati. Quindi è necessario investire e indicare come priorità la Fano Grosseto. Qualcuno ci dice sono promesse che ascoltiamo da 30 anni, sì è vero, sono promesse che ascoltiamo da 30 anni e non si sono realizzate dopo gli anni 90 perché la regione non ha mai voluto che la Fano Grosseto diventasse una priorità. La priorità invece è diventata la quadrilatero. Ottima struttura di collegamento tra i due mari, il Tirreno e l'Adriatico ma guarda caso, mentre Ricci e Ceriscioli litigavano per dividersi il potere in questa provincia, le altre province stavano realizzando un'opera infrastrutturale fondamentale per lo sviluppo del territorio che dal Monte Conero si estende verso il sud delle Marche. Tanto che oggi comunemente Civitanova viene chiamata la Rimini delle Marche. Abbiamo tagliato, ghigliottinato le Marche e guarda caso ancora una volta la provincia che è rimasto fuori da questo sviluppo e da questo sviluppo infrastrutturale è la provincia di Pesaro e Urbino. Quindi è necessario che la regione Marche, il nuovo Presidente, la nuova Giunta indichi al Governo nazionale come priorità il completamento della Fano Grosseto e della Guinza, ma ancora di più il collegamento tra la quadrilatero e la Fano Grosseto tramite l'intervalliva Ope de Montana, Fabriano, Sassoferrato, Pergola, Fossombrone. Fondamentale anche l'aeroporto così come le complanari? Una regione senza aeroporto non può pensare ad uno sviluppo turistico e nemmeno ad uno sviluppo imprenditoriale. Così come le complanari noi abbiamo una strada adriatica tra Fano e Pesaro, potrei dire anche tra Marotta, Ponte Sasso, Tombaccia, completamente intasata da tutte le auto e mezzi che confluiscono dall'entroterra e molto spesso anche dall'autostrada. Mentre in altre province si sono realizzate delle complanari che evitano l'intasamento dell'adriatica e dei centri cittadini, qui non siamo stati capaci ancora, non sono stati capaci i sindaci di Fano e di Pesaro di ottenere dalla società autostrade, di realizzare con la società autostrade come opere compensative della terza corsia, le complanari tra Fano e Pesaro ma nemmeno quella tra Marotta, Ponte Sasso, Tombaccia. Infrastrutture comunque a servizio sia di cittadini ma anche di imprenditori perché anche lo sviluppo per le imprese può essere importante. Noi in tutta la nostra provincia abbiamo imprese importantissime, basti pensare al comparto industriale pesarese o quello fanese ma anche del Montefeltro, sono stati completamente abbandonati questi imprenditori perché abbiamo infrastrutture ormai troppo datate che non rispondono più alle loro esigenze, non rispondere alle esigenze di questi imprenditori significa non rispondere alle esigenze del lavoro e quindi dello sviluppo. Ovviamente insieme alle infrastrutture stradali, dovremo pensare anche alle infrastrutture sulla rete ferrata. E quindi anche in questo caso Fanurbino? La Fanurbino, la Pergola Fabriano debbono essere necessariamente non convertite in piste ciclabili, noi dobbiamo avere una mobilità integrata, quindi le piste ciclabili devono potersi servire della ferrovia, quelle ferrovie potrebbero essere trasformate in metropolitana leggera come i migliori esempi che abbiamo nel nord Italia o anche in altri paesi dell'Unione Europea dove quelle linee ferroviarie, quelle linee ferrate che erano considerate dei rami secchi sono diventate un incredibile volano per lo sviluppo del turismo e del territorio. Sto pensando ad esempio alle linee ferroviarie nella foresta nera, chi li ha visitate ha visto che quelle erano considerate dei rami secchi e sono diventate un punto di attrazione favoloso per i turisti. O la Merano Malles qui da noi in Italia. Non capisco perché investimenti che valgono centinaia di milioni di euro debbano essere smantellati per far posto a delle piste ciclabili che potremmo invece realizzare a fianco della ferrovia o potremmo realizzare una mobilità integrata che permetta ai cicloamatori di potersi servire di quelle metropolitane leggere. Visto che parliamo di turismo dovrei passare dalla ferrovia alla costa, quindi l'erosione, le spiagge. Sì, in questi anni poco è stato fatto per tutelare quello che è il vero richiamo della nostra provincia, le stupende spiagge che da Pesaro, direi da Gabice, arrivano fino al Monte Conero. Dobbiamo fare di più, si deve fare di più per la tutela delle nostre spiagge perché sono il richiamo del turista nella nostra provincia e ricordiamo che la nostra provincia in 30 km può offrire diversi tipi di turismo, da coloro che amano la spiaggia fino ad arrivare alle nostre montagne ma tra la spiaggia e le montagne ci sono stupende colline che poi baciano appunto la nostra riviera ricca di bellezze storiche, artistiche e culturali. Parto dalla città di Pergola con i bronzi dorati ma potrei parlare della rocca di Mondavio, dell'ipogeo di Piagge, arrivare alla Fano e alle Pesaro sotterranee, sono città bellissime che vanno valorizzate, non possono essere valorizzate soltanto con spot sporadici, dobbiamo fare sistema, dobbiamo difendere la nostra spiaggia, dobbiamo creare infrastrutture perché questo territorio possa dialogare e possa attirare davvero turismo. Quindi è importante secondo lei fare sinergia anche tra i vari comuni, tra le province? Bisogna far sinergia, ad esempio qui siamo a Fano, non dobbiamo dimenticare che Fano domina due vallate, la Valle del Metauro e la Valle del Cesano. Non ho visto politiche della città di Fano che faccia davvero da capofila e da apripista per lo sviluppo di queste due valli, non ho visto veramente creare un consorzio efficace per poter valorizzare questo territorio, così ovviamente vale per Pesaro, ma è necessario che Fano riesca a rivendicare questo suo ruolo per valorizzare anche le due valli che ha alle sue spalle. Ecco Francesco, invece per quanto riguarda il mondo delle imprese, è possibile in concreto ridurre burocrazia, aiutare le start-up, ma anche le partite IVA? Sì, adesso mi viene in mente soltanto una cosa, abbiamo spotelli unici per le attività produttive dove necessariamente bisogna passare per svolgere la propria attività. Se andiamo a vedere i regolamenti e le modalità operative di ogni comune, sono diverse l'uno dall'altro, basta con la burocrazia, facilitiamo le attività di chi veramente ha voglia di rimboccarsi le maniche per rilanciare la nostra economia e non trasformiamo la burocrazia, le attività amministrative con una clava da utilizzare contro i nostri imprenditori o contro i nostri giovani che vogliono veramente rilanciare questo territorio e questo è molto importante perché se guardiamo gli ultimi dati elaborati da alcune università noi vediamo che al netto del calo demografico ogni anno da qui al 2030 perderemo 10.000 abitanti, 10.000 abitanti nella nostra regione, significa in 10 anni 100.000 abitanti che si sposteranno dalle marche in altre regioni, significa che questa regione non guarda al futuro e non ha guardato al futuro. Sul fronte della sicurezza lei in questi anni ha sempre sostenuto le forze dell'ordine? Sempre al fianco delle forze dell'ordine che sono coloro che ci garantiscono tranquillità e serenità nella nostra vita quotidiana. Debbono essere tutelati perché troppe sono le aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine e troppo pochi sono i poteri di questi nostri uomini e donne in divisa che invece cercano di tutelare la nostra libertà e la pacifica convivenza. Quindi adeguamenti tecnologici che sono necessari per il controllo del territorio ma anche maggior poteri e maggior numero di uomini delle forze dell'ordine. È una richiesta che prioritariamente le nostre istituzioni devono fare al governo nazionale per rafforzare la loro presenza sul territorio. Così come il decoro delle nostre aree più periferiche e a volte anche nei centri cittadini. Penso al Parco Milalfiore a Pesaro ma penso anche a alcuni episodi di violenza accaduti in pieno giorno anche nella città di Fano. Questo non è tollerabile. Valdelli, stando anche agli ultimi sondaggi ci sarebbero ancora diverse persone indecise. Qual è il suo messaggio per i cittadini? Ma bisogna veramente cambiare questa regione, questa regione che è stata mal governata indipendentemente dai partiti che l'hanno gestita. Ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Devastazioni ambientali anche nella nostra provincia, distruzione della sanità sia nell'entroterra che lungo la costa, nessuna opera di difesa del suolo soprattutto lungo le nostre spiagge che vengono erose continuamente la necessità di completare delle infrastrutture che sono vitali per il nostro territorio. Abbiamo visto troppa occupazione del potere da parte del PD e del centro-sinistra e poca tutela dei diritti dei nostri cittadini e della nostra terra. E per queste elezioni, separato tanto anche di unità del centro-destra, che area si respira tra la popolazione? Io sto correndo come mio uso fare in tutti gli angoli del nostro territorio e si sente davvero aria di cambiamento. Il vantaggio che ci indicano i sondaggi del candidato presidente del centro-destra su quello del centro-sinistra si tocca con mano ogni giorno. Quindi veramente i cittadini vogliono riappropriarsi del loro futuro e vogliono davvero la tutela dei propri diritti. Le elezioni vi ricordo che saranno al prossimo 20-21 settembre. Francesco Baldele, grazie per essere stato nostro ospite. Buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, è sempre un piacere essere qui a Fano TV. Grazie ancora Baldele, grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci. iscrivetevi al nostro canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.